ecco qua spero se sembra che sia andato tutto tutto bene allora allora ebbe buona buona sera tutti i decameretters delle decameretters e sono un po così un po un po un po più ansioso del solito perché di solito sono ospite diciamo di prima di cecilia monina poi di romilda insomma decameromi è la prima volta che mi trovo così a gestire da solo il mio il mio slot scegliendo e lo fare insomma prendo la parola per per parlare di uno di uno scrittore che mi è che mi è molto caro che è juan rodolfo wilcock vedo che per ora insomma tutto tutto sembra tornare nel mio slot quindi mi insomma mi avvio a come dire a principiare diciamo ecco qui sono tutti che salutano maria lucia cecilia natalia che ringrazio tutti insomma come come al solito allora wilcock wilcock parlare di wilcock allora insomma in ora del in orario aperitivo un intellettuale poliedrico potremmo dire poliglotta soprattutto wilcock è stato è stato poeta nella nella sua lingua madre che era lo che era lo spagnolo anzi l'argentino è stato è stato scrittore è stato critico letterario è stato stato traduttore fra le altre cose e traduttore non certo di interpreti insomma di traduttore diciamo di scrittori non certo accessibili o comunque insomma non non tra i più semplici joyce per esempio e il joyce di finnegan su che tra l'altro sul quale ha scritto anche interventi di una certa come dire a piuttosto penetranti ecco e traduttore soprattutto per per chi conosce e per chi conosce per chi ha a cuore flano brian per esempio grande eccentrico della letteratura irlandese è stato wilcock è stato il traduttore nel 1968 di una pinta d'inchiostro irlandese anzi visto che il romanzo si intitola e to swim two birds che è un titolo sostanzialmente traducibile a lui dobbiamo anche questo bellissimo titolo italiano wilcock la vicenda diciamo la vicenda biografica e come dire e la fortuna letteraria di wilcock sono un po come dire un po particolari nel senso che wilcock scelse deliberatamente di trasferirsi a un certo punto della sua vita lui che era nato in argentina a buenos aires da padre inglese madre svizzero italiana decise lui che era diciamo un affiliato benché giovanissimo era nato nel 1919 ed era un affiliato della del gruppo che ruotava attorno a borges alle sorelle o campo e adolfo bio e casares e noi sappiamo che peraltro erano le sorelle o campo in particolare che l'avevano molto in simpatia mentre borges non ricambiava affatto l'ammirazione che wilcock provava per lui anzi riteneva che fosse troppo seduto da questi da questi modernisti da ezra pound da questo joyce insomma via ecco quindi insomma un po un po troppo sedotto dal nuovo questo questo giovane wilcock ma è giovane wilcock ad un certo punto della della propria vita alla fine degli anni 50 dopo alcuni dopo aver esercitato la professione di ingegnere perché wilcock qui è un po interessante perché uno è un letterato ingegnere come 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 carlo emilio gadda come robert musil insomma figure scritto grandissimi enormi scrittori sotto da molti punti di vista e però con una formazione eminentemente tecnica possiamo dire wilcock quindi ingegnere che costruisce che costruisce un progetto a ponti per la ferrovia transandina che scrive poesie di gusto neoromantico ha scritto ha scritto francesca l'azzarato e che poi ad un certo punto decide almeno è rimasta è rimasta negli annali la frase che lui rivolge a ector bianciotti lui stesso scrittore poeta scrittore argentino esule in europa e in in francia con molto più fortunato dal punto di vista letterario di rispetto a rispetto al nostro wilcock dicevole la frase storica è se non te ne vai subito questo paese se è perduto per sempre c'è una nave che parte per l'italia tra 25 giorni non è cara io la prenderò e wilcock così parte per l'esilio parte per per l'esilio che si rivelerà ben presto questo esilio italiano un esilio nell'esilio nel senso che wilcock e magari lo vedremo nelle cose che vi leggerò insomma è un è un autore piuttosto idiosincratico con autore di di grandi simpatie di altrettanto feroci antipatie e in particolare per quanto riguarda le feroci antipatie ad un certo punto comincia non sopportare più l'ambiente l'ambiente letterario romano diciamo lui si era trasferito a si era trasferito a roma viveva a roma e ad un certo punto si stanca lui che già viveva all'estrema periferia romana nella zona diciamo nella zona della dell'appia nuova più o meno e dove viveva in una in una casupola la si vede questa casupola la si vede nel in una in una intervista molto bella che potete trovare su youtube che che viene fatta negli anni nel 1973 all'inizio degli anni 70 pochi anni prima della morte e la si vede questa casa si vede anche wilcock insomma un uomo tutto sommato ancora giovane 50 anni però già col volto già segnato che si veste con questa miss che può ricordare un po un po quella di 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 celine quando negli ultimi anni ormai rei probo della società letteraria per le insomma per le sue per le sue simpatie collaborazioniste per il suo antisemitismo viene come esiliato a meudon nella periferia nei soborghi di parigi e wilcock insomma anche se non aveva delle colpe altrettanto gravi va a a inselvatichirsi così è scritto di recente in un articolo per il centenario della nascita michele mari va in selvatichirsi nella periferia romana prima e poi ad un certo punto a velletri e a e infine a lubriano dove muore il 16 marzo del 1978 mentre l'italia e di gli occhi dell'italia sono tutti su via fani dove la scorta di aldomoro è stata sterminata e lo statista rapito delle brigate rosse quindi l'ipopea di wilcox si chiude così una sorta la biografia di wilcox si chiude così in in silenzio quasi in un forzato silenzio come dice wilcox aveva abbandonato ben presto la società letteraria e della quale ci con la quale aveva un rapporto contrastato c'è un inter in un'intervista sebastiano vastalli l'ultima intervista sebastiano vastalli si racconta qui racconta di aver incontrato wilcox negli ultimi anni della vita dello scrittore dice quando ero a roma lo andavo spesso a trovare una volta mi era casa a casa sua racconta vassalli viveva all'estremo della periferia romana con due cani uno vecchio e l'altro grassissimo presi le pulci e non fu cosa facile deve larle parlando una volta di sentimenti umani wilcox mi disse l'amore e l'amicizia vanno e vengono il solo sentimento durevole e l'odio poi prese un momento a pensare poi rimase un momento a pensare e aggiunse se qualcuno ti odia non sei mai solo era che una frase memorabile che gli fece intravedere una positività dell'odio alla quale non avevo mai pensato dice dice vassalli quindi wilcox grande odiatore non è forse un caso che pierpaolo pasolini uno dei suoi pochi amici a roma lo scelse per il ruolo di caifa l'antagonista per antonomasia nella nella sua trasposizione evangelica nel vangelo secondo matteo del 64 e insomma quindi questo wilcox grande odiatore che quando viene chiamato a esprimere la propria opinione sulla società letteraria romana dalle colonne del mondo di mario pannunzio wilcox che ci ha lasciato molto ha scritto molto anche così ha avuto un'intensa attività pubblicistica diciamo e il mondo era una delle sue delle sue sedi per un certo periodo vi addirittura vi sostituì non ricordo se era su su il mondo o forse sulla voce repubblicana no sul mondo sul mondo che scrisse sto controllando le mie fonti nel frattempo sul mondo di pannunzio questo è un aneddoto che racconta roberto calasso dovete sostituire nicola chiaro monte sul mondo scrivano personaggi insomma di un certo di un certo spessore doveva sostituire nicola chiaro monte come critico teatrale e solo con wilcox a wilcox andare a teatro non piaceva si annoiava e quindi comincia inventarsi le come dire come le commedie e commediografi che lui andava che lui andava a recensire no e allo stesso una cosa del genere poi almeno sempre qui siamo sempre nell'ambito del si dice dell'aneddotica su sulla rivista il punto per esempio teneva una rubrica dal titolo dicamente possiamo dire borghese hanno la biblioteca di babele e così nella quale consigliava i libri da non leggere e solo che i libri da non leggere non esistevano l'inventava lui c'è insomma quel gusto molto molto mi verrebbe da dire molto ibero americano diciamo del mondo costo di un mondo costruito di sole parole e viene in mente borghese appunto i suoi le sue recensioni di libri inesistenti pubblicate nelle finzioni no anzi era lo stesso borghese che teorizzava insomma che era noioso il mestiere del compilatore di grandi libri allora era meglio far finta che questi libri fossero già e farne dei riassunti come dire delle 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 recensioni o così dei sa scrivere dei saggi su questi libri e appunto allora abbiamo herbert quain abbiamo il don quixote apocrifo e via discorrendo questo gusto non manca non manca wilcock come come avremo modo di vedere anche se lo distingua diciamo rispetto all'olimpica serenità di di borges wilcock ha una mi verrebbe di dire una una violenza maggiore nella scrittura ecco più come dire più 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 incanaglito non lo so appunto che qualcuno ti odia non sei mai solo teniamoci alla mente questa frase dobbiamo dobbiamo edoardo camurri il fatto la la come dire l'aver raccolto questa l'aver raccolto una silloge di queste di queste scritture in questo volumetto il reato di scrivere ogni tanto mi capita quando mi capitava le prime volte di di portarmelo in giro dicevo qualche amico magari diceva questo l'ha scritto wilcock e mi diceva a ma assomiglia ad arco marx e anche in realtà è perché effettivamente questo è arco marx in una in una scena del film horse feathers ma è come dire forse questo per dire insomma quanto wilcock sia poco conosciuto poi negli anni per carità come roberto roberto dei die per esempio e andrea gialloreto ne hanno scritto insomma e poi vabbè francesca l'azzarato sul sul manifesto più più di recente e poi più di tutti forse il più 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 fanatico il più scatenato tra i will cocchiani è stato edoardo camurri sia sul 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 foglio ma anche poi nelle sue come dire nelle numerose curatele a questa poi purtroppo non l'ho qui non l'ho qui a casa la nei passi tradotti del fine guns way che passi scelti tradotti e gli saggi su joy se via discorrendo insomma hanno tutte tutte queste persone hanno contribuito a far far conoscere insomma dissipare un po quell'aura anche leggendaria che che a wilcock che è più insomma su wilcock gli aneddoti si moltiplicano io ricordo di averlo quasi diciamo di averlo scoperto una delle prime volte leggendo un libro molto molto grazioso di sandra di sandra petrignani che si intitola addio a roma e in cui appunto wilcock è uno dei personaggi addirittura ad un certo punto interagisce con la con la protagonista fittizia tra l'altro immaginaria del del romanzo del rono nel non romanzo insomma comunque di questa raccolta di cronache letterarie cinematografiche della roma degli anni 50 agli anni sessanta e wilcock sembra davvero un personaggio inventato quando quando viene descritta prendendo spunto dalle parole di un suo il suo amico il il poeta e scrittore elio pecora che era andato a trovarlo c'era questa in questo appartamento barocco pieno di di appunto di peli di cane di libri e di polvere insomma e poi o quando lo descrive nel suo esilio di di belletri in questa casa che questo cubo di cemento che lui ha acquistato da certi contadini insomma per farne per farne la propria per farne la propria dimora o ancora quando lui si si presenta con gli abiti acquistati di seconda mano che li acquistava a porta portese e dice vado lo trovano insomma lo vanno si presenta una festa con un laccio da scarpe hanno dato al collo al posto della cravatta e a ginevra bumpiani all'epoca giovanissima che lo guarda un po stupite gli dice ma no questo è un gioco di parole fra callo e collo quindi è veramente un po quest'area un po modi e un po un po fittizia se vogliamo veramente da da personaggio letterario però insomma bisogna 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 un po bisogna un po interrogare i suoi scritti a me per esempio piace molto nella raccolta di curata da camurri per esempio più che il testo che dà il titolo alla raccolta che si intitola appunto sul reato di scrivere dove gli strali poi sono quelli contro dei veri scrittori contro l'industria culturale contro l'industria letteraria la pseudo cultura quando scrive non di rado la letteratura diventa strumento di potere e chi ne ha le redini in mano da quel momento se le tiene strette la cultura si chiude in casa si fa rappresentare dalla sua serva che è la sottocultura il mondo letterario allora un suo governo il quale come tutti i governi tende a soddisfare anzitutto le aspirazioni dei più bestiali cioè più forti tra i suoi subiti in quello che oggi scandalizza i giovani non c'è nulla di nuovo le loro le stesse prepotenze avranno scandalizzato 30 anni fa i loro genitori di quando in quando nel regno letterario scopriano la rivoluzione ma si sa che le rivoluzioni visibili passata la prima euforia e sensazione di movimento ritornano sempre al precedente sistema di governo benché sotto altro nome quindi un pessimismo unichilismo anche sulla letteratura totale più interessante secondo me invece l'altro l'altro testo un altro testo che secondo me ci può illuminare ci introduce anche un po alla scrittura le personaggi che animano la scrittura di wilcock che sentito l'illusione critica ed esordisce così per due motivi noti di carattere biologico il sesso e la nutrizione e per diversi motivi meno noti di carattere tra l'istintivo e il patologico siamo costretti a sopportare l'esistenza la vicinanza e perfino il contatto ad esseri contrari alla nostra ragione questi esseri vengono genericamente chiamati gli altri anche perché i nostri più raffinati processi di educazione occidentale non ci permetteranno mai di raggiungere quel livello minimo di avviamento alla felicità riscontrabile tuttora in un qualunque lama del tibet per la stessa ragione che fa scrivere a bapò neanche le più civili persone della nostra società potranno mai raggiungere la delicatezza di comportamento di un mulattiere tibetano la nostra insomma di educazione occidentale la nostra vita e costumi occidentali sono così sbagliati ormai nel senso di un possibile rapporto soddisfacente con gli altri e quasi sembra inutile sembra naturale dire impossibile rapporto che per forza il nostro spirito occidentale cerca confronto confronto nel rapporto con gli enti della illusione per quanto poveri insoddisfacenti appaiono i risultati essi sono nel campo della società ammissibili il resto è molto al di sotto del già citato mulattiere tibetano sostituire le orribili perché incomprensibili e incomprensive persone che ci circondano con esseri immaginati comprensibili e comprensivi dunque piacevoli è privilegio non solo dei pittori se ancora esistono nascosti ma anche degli scrittori importanti ed è una delle caratteristiche che li fa importanti felici gli scrittori mediocri soffrono quasi come se non fossero scrittori costretti viziosamente a riprodurre già conoscono il più delle volte degli esseri umani che gusto c'è a non inventare la propria moglie i propri angeli e demoni possono perfino come Hemingway uccidersi per questo motivo felici furono invece Kafka, Lewis Carroll e James Joyce brevi tratti di vita occidentale dedicati tra una nascita e una morte quasi contemporanea al sorriso e al divertimento generosi quindi viene anche da domandarsi doveva parare Wilcock a proposito della propria insomma che scrittura che letteratura propone Wilcock beh cerca di proporre una letteratura diciamo del tutto immaginaria fatta di essere immaginari ci riesce e questo è interessante perché in realtà Wilcock sembra accanirsi in modo particolare nel raccontare il fallimento di questi personaggi del tutto immaginari i suoi mostri io penso sempre ai romanzi di Wilcock qualcuno ha detto che i romanzi di Wilcock sono per esempio i due allegri indiani che viene pubblicato nel 71 che è quello dove la forma romanzesca più evidente viene definito una sorta di romanzo rivista io penso ai romanzi di Wilcock come romanzi come freak show ecco mettiamola così come romanzi di come esibizioni di fenomeni da baraccone quindi c'è come dire in Wilcock c'è il tentativo di creare un mondo del tutto immaginario e il risultato che è invece il gran scioccheziaio e non a caso Wilcock una delle ultime cose che che realizza ed è il viene pubblicato a posto ma una delle sue ultime traduzioni è appunto la curatela del dizionario dei luoghi comuni il gran scioccheziaio il catalogo delle idee chic di Flaubert è vero è così cioè si tratta effettivamente questo lo ha ricordato Jacopo Narros tra l'altro nella sua recensione al libro dei mostri che è l'ultima delle cose che è stata pubblicata da Adelphine che meritoriamente per fortuna sta via via rendendo di nuovo accessibili i romanzi i romanzi i libri di Wilcock che erano andati fuori catalogo nel corso degli anni o comunque facevano parte di collane adelfiane ormai scomparsi si è cominciato appunto con la raccolta curata da Camurri e poi vabbè si è proseguito con la sinagoga degli iconoclasti che addirittura insomma è un suo è diventato un romanzo un romanzo di culto anzi un libro di culto per Roberto Bolagno che si dice almeno ne abbia preso spunto per il suo la letteratura nazista in America con lo stereoscopio dei solitari che forse è il mio preferito e poi vabbè con il libro dei mostri che è stato scritto da Wilcock è stata l'ultima opera scritta da Wilcock ed è stata pubblicata pochi mesi dopo la morte molto in breve la sinagoga degli iconoclasti in realtà ha di singolare se non altro che si inizia a leggerlo come un libro di pura invenzione e Wilcock raccontava di averne come dire di averne come dire di aver preso spunto dice ne parlava come una collezione di cito Wilcock dall'intervista della RAI una collezione di scienziati fasulli che ho preso abbastanza sul serio non ho preso in giro nessuno tutte le teorie si possono perdonare se legge una storia della scienza vedrà che tutti i più grandi filosofi hanno proposto teorie che stanno più o meno sul loro del ridicolo e infatti uno comincia a leggerselo come un libro di pura finzione e ad un certo punto poi c'è una notarella alla fine che dice quasi tutti i particolari qui menzionati riguardanti Babson, Lobson e Horviger che sono tre dei ritratti reportati nel libro sono ricavati dalla raccolta di Martin Gardner in The Name of Science nel nome della scienza che è una raccolta poi di divulgazione scientifica quindi insomma Gardner lo conosciamo è stato anche tra l'altro un grande debunker diciamo comunque un grande come dire svelatore di ciarlatani ecco in ambito pseudoscientifico eppure eppure Wilcock per i suoi pseudoscienziati dice di ispirarsi proprio a lui quindi insomma c'è la finzione sì ma c'è forse insomma a Wilcock piace intorbidare le acque ma venendo invece a qualcosa di più curioso invece penso allo stereoscopio dei solitari e qui effettivamente abbiamo questo e nel libro dei mostri abbiamo effettivamente qualcosa del freak show qualcosa del freak show e qualcosa anche della... qualcuno ha parlato anche della centuria di Giorgio Manganelli i piccoli romanzi fiume ecco questo è un po'... io ho scelto qualche cosa e spero di avere il tempo di leggerveli tutti perché sono veramente interessanti sembrano i romanzi... sembrano romanzi... qualcuno ha parlato di pseudofantascienza non lo so in realtà è forse una... sono invenzioni fantastiche diciamo che sembrano tratti degli antichi... sembrano tratti dagli antichi bestiari dai grandi... delle antiche epitomi delle antiche biblioteche e però poi degradati diciamo nel contemporaneo insomma è una sorta di parodia tragica io ve ne leggerò alcuni... insomma alcuni brani il mio preferito personalmente è questo ho sentito alla liberazione dice... erede di svariate comode fortune amante dello sport e della vita all'aperto Serten è tuttavia afflitto da fastidiosi inibizioni triste retaggio dell'uomo civile logica conseguenza di un'educazione sbagliata per liberarsene visto che nei mezzi della volontà gli mancano il giovane si è messo fiducioso nelle mani dei migliori neurochirurghi i neurochirurghi gli consigliarono anzitutto l'intervento più semplice cioè una serie di elettroshock ma Serten obiettò che da un intervento banale non poteva venire fuori che qualcosa di banale optò quindi per una lobotomia elegante operazione di origine portoghese gli fecero un foro sulla tempia destra e un altro sulla sinistra un filo venne introdotto attraverso i buchi e l'abile chirurgo con due rapidi strappi gli tagliò i collegamenti fra il talamo e i lobi frontali questo avveniva qualche anno fa nel frattempo la tecnica neurochirurgica è mutata e si è perfezionata e anche Serten è mutato e si è perfezionato è diventato euforico e faceto in occasione dei recenti solenni funerali del cardinale Palatino si è accodato in macchina alla processione con un ombrello aperto dentro l'automobile e senza pantaloni per fortuna la folla chiusa nel proprio cordoglio non se ne accorse e il solo momento di perplessità si ebbe quando Serten si mise a scagliare carciofi diverse dozzine davanti al cancello monumentale del civitero dei beati rapiti ricorda perfettamente dove abita riconosce benissimo i membri della famiglia i quali a poco a poco turbati dei suoi continui sfoggi di buon rumore sono finiti col traslocare altrove tutti quanti il suo fratello ha provato a interdirlo per via di un salmone pieno di polvere pirica esploso a tavola senza successo però perché Serten si conserva meravigliosamente lucido sa contare fino a 14 distingue ancora la S e la M non basta certo un organo genitale dipinto all'inchiostro di china sul cappotto di una cugina per far interdire un giovane sano e ricco e visto il buon esito del primo intervento Serten si è fatto pungere, sezionare e isolare altre regioni del cervello diverse volte per raggiungere un punto particolarmente intricato della corteccia hanno dovuto aprire la calotta cranica il classico taglio a ferro di cavallo con trapano e seghe e ribaltamento del coperchio parietale così è riuscito per esempio a farsi eliminare completamente il senso del dovere, la vergogna, la soggezione, il rimorso, la paura la modestia, la pietà, l'insonia e altre simili anomalie tanto rare quanto indesiderabili Serten ha perso quasi interamente il senso dell'orientamento e le ultime inibizioni sia sessuali che sociali che ancora gli rimanevano così gli capita spesso di ritrovarsi nella nebbia di un prato qualunque di una qualunque lontana periferia per mettersi a un tratto dimentico e felice a far l'amore con una pecora o quel che è lo stesso con un montone bestie pazienti e pensose finché esaurito, lacero, spettinato e sporco non si imbatte in un vigile notturno e baciandolo perdutamente sulla bocca o sul ventre lo prega di riportarlo a casa o in ogni caso di chiamargli un tassì i personaggi di Wilcox sono tutti un po' così leggermente svuotati ce ne sarebbe un altro per esempio insomma questo è abbastanza vabbè ma tanto siamo in un rio aperitivo e poi abbiamo quasi finito anzi no forse no ve ne leggerò un altro tratto dal libro dei mostri che a me fa tanta tenerezza io penso che Wilcox un po' adombrassa anche se stesso nel racconto di questi personaggi mostruosi lui stesso appunto si sentiva forse un po' mostruoso qualcuno ha detto un alieno nella società letteraria del tempo quindi non mi stupisce che l'ultimo suo libro sia dedicato proprio ai mostri e sia una collezione di figure tutte abbastanza deragliate insomma inguardabili illegibili e poco adatte diciamo all'aperitivo ma tanto ormai siamo qui e ormai siamo in via di conclusione e quindi voglio anche divertirmi un po' allora il libro dei mostri è organizzato sono tutti ritratti diciamo brevissimi di personaggi abbastanza come dire mutati oppure insomma risvegliati se un giorno ridotti a figure non propriamente umane o comunque che di umano hanno ben poco io vi leggerò l'ufficiale postale Frenio Guiscardi l'ufficiale postale Frenio Guiscardi è un ammasso di peli, lana e bambagia di forma genericamente sferica ma con gli anni si è molto allentato e sembra talvolta sul punto di disfarsi soprattutto quando lo porta il vento ma quel che in lui è straordinario è l'istinto dell'orientamento che gli permette di migrare anche in condizioni meteorologiche proibitive l'autunno e l'inverno l'ufficiale postale Guiscardi li trascorre per solito in Sicilia e in Calabria ma con l'inizio della primavera si trasferisce in Baviera o comunque nel sud della Germania dove rimane tutta l'estate molti si sono chiesti quale sia il segreto meccanismo di queste sue esatte migrazioni quali i suoi punti di riferimento se di giorno la posizione del sole e di notte quella delle stelle oppure la configurazione topografica del terreno certo si sa soltanto che un dato giorno dell'anno peraltro non sempre lo stesso l'ufficiale postale Frenio Guiscardi se ne va rotolando per i campi e pur non scostandosi di molto dalla direzione nord segue dove necessario la linea della costa perché altrimenti se si lasciasse trascinare dal mare ci finirebbe presto dentro con un batuffolo bagnato e si scioglierebbe tutto come a tanti è accaduto solo mezzo visibile di tali spostamenti pare sia il vento ed è stata rilevata l'abilità con cui Guiscardi si sa disporre le proprie pelurie in modo da venire sospinto verso nord anche quando il vento tira in altra direzione come fanno sull'acqua le imbarcazioni a vela ma ancora più misterioso e recondito appare lo scopo di questi viaggi che a quanto sembra nulla hanno a che vedere con la regolare consegna della posta trattandosi poi come si tratta della migrazione di un singolo individuo qualcuno ha suggerito che a spingere l'ufficiale postale Guiscardi possa essere l'amore si sa che tutto ciò che si muove è mosso dall'amore persino le guerre ciò non di meno è sconcertante l'idea di un batuffolo innamorato di cosa poi? come noi come tutti noi e quindi viene davvero sì il sospetto che Guiscardi parli di mostri parli di iconoclasti parli di solitari e in realtà parli invece insomma di una contemporaneità di individui perfettamente riconoscibili in cui insomma ad un certo punto è come se questo specchio deformato si capovolgesse e rivelasse appunto che è il lettore insomma è sto stesso parte di quei mostri certo può non piacere Willcock può respingere questa sua la violenza della sua scrittura l'ostentato come dire l'ostentata selvatichezza appunto per riprendere il termine di di Mari la la negatività in fondo negli ultimi anni Willcock aveva finito per scrivere per un quotidiano ultraconservatore come il tempo e quasi 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 per ripicca contro i suoi ex amici Moravia o Elsa Morante che insomma con la quale aveva un rapporto molto di vicinanza ma anche molto contrastato lui stesso diceva che menzogne e sortilegio insieme ad alcune pagine di Landolfi e di Gadda sarebbero state tra le poche cose letterarie della letteratura italiana che sarebbero state ricordate insomma in futuro quanto a lui diceva mi piace concludere con una frase che sarebbe piaciuta a Manganelli che mi è capitato anche di ricordare un articolo che ho scritto per Willcock in ricordo dei suoi in occasione del centenario della sua nascita ed è una frase che mi sembra molto molto adatta soprattutto in questi tempi insomma di di emergenze di ripensamenti anche insomma di come debbano andare le cose ecco nel nel mondo che verrà dice la letteratura non esiste in natura è una cosa innaturale quindi rischia sempre di sparire adesso un po' meno perché sembra che l'uomo abbia invaso la terra la distruggerà completamente ma forse lascerà la letteratura è meglio scrivere un libro che fare una piramide per come si mettono le cose Willcock diceva che la scrittura era il tentativo nasceva dal tentativo di dell'uomo di serbare una testimonianza di se stesso il proprio nome lui dice forse la prima cosa scritta dal primo uomo che ha scritto dal primo scrittore era il proprio nome scritto da qualche parte andate a recuperare l'intervista di Willcock perché insomma a parte lo stile dei reportage della RAI dell'epoca ma poi è veramente insomma straordinaria che ha la medietà delle domande lui risponde e c'è con queste digressioni straordinarie insomma sul proprio mestiere di scrittore sul proprio mestiere di traduttore e sul proprio mestiere di diverso mestiere insomma la propria condizione di diversità non solo letteraria che altro dire io spero di aver introdotto diciamo così Willcock poi insomma il resto questo vuole essere solo un viatico una chiacchierata così per parlare appunto di iconoclasti di mostri e di solitari e con tutto questo vi saluto e vi auguro una buona serata e una buona lettura nel nome di Juan Rodolfo Willcock Grazie a tutti Grazie a tutti